Caffi Blitz Svizzera. Il online shop numero 1 per capsule di caffè. Capsule o cialde? Questa è la tipica domanda di chi per la prima volta si affaccia a questo mercato. La differenza tra queste due tipologie è semplice ma sostanziale. La cialda di caffè è composta da un filtro di carta contenente caffè macinato mentre la capsula si contraddistingue come un contenitore rigido ed è adatta a specifiche macchine funzionanti con sistemi appositamente creati. Appartengono alla seconda tipologia le capsule caffè borbone compatibili, in questo speciale caso le borbone Don Carlo.